Il regno di Dio richiede la nostra collaborazione, ma è soprattutto iniziative e dono del Signore. Così Papa Francesco all'Angelus mette in luce il senso delle due parabole evangeliche riguardanti il seme che germoglia da solo e quella del granello di senape. Nel primo episodio il seme, come la parola di Dio, cresce grazie alla fecondità che insite in sé. È sempre Dio, ricorda il Papa, a far crescere il suo regno, l'uomo è un suo umile collaboratore che contempla e gioisce dell'azione creatrice divina e ne attende con pazienza ai frutti. Ma, aggiunge il Papa, è importante nutrirsi ogni giorno della parola di Dio, leggendo un brano del Vangelo o della Bibbia, perché è la parola che fermenta e fa germogliare la vita. Il secondo episodio riguarda la piccolezza del granello di senape che diventa però la più grande pianta dell'orto. Così, per entrare nel regno di Dio, bisogna farsi piccoli, poveri di cuore, non confidare nelle proprie capacità, ma lasciarsi fare dalla forza di Cristo, che trasforma ciò che è piccolo e modesto in una realtà che fa fermentare l'intera massa del mondo e della storia. La vittoria del Signore è sicura. Il suo amore farà spuntare e farà crescere ogni seme di bene presente sulla terra. Questo ci apre alla fiducia e alla speranza, nonostante i drammi, le ingiustizie, le sofferenze che incontriamo. Il seme del bene e della pace germoglia e si sviluppa perché lo fa maturare l'amore misericordioso di Dio. Al termine dell'Angelus, il Papa ha ricordato la giornata mondiale dei donatori di sangue e la pubblicazione in settimana dell'enciclica sul creato, perché tutti, affermato, possano ricevere il suo messaggio e crescere nella responsabilità verso la casa comune che Dio ci ha affidato. Grazie a tutti.